Sì, sappiamo di venire a giocare una partita particolarmente difficile sia per le nostre condizioni che chiaramente per l'avversario di alto livello che trovavamo. Secondo me siamo stati per larghi tratti bravissimi a interpretare la partita e a capire quello che dovevamo fare, dove attaccare e come cercare di contenere le loro doti offensive. In qualche momento il ritmo si è alzato un po' troppo e chiaramente quando si alza il ritmo contro Casale, soprattutto per noi in questo momento, è un problema. Abbiamo concesso diversi secondi tiri, però poi abbiamo sempre avuto la forza di restare aggrappati a ogni piccolo strappo che loro provavano a fare. Poi nel finale abbiamo un po' perso lucidità, abbiamo perso lucidità in attacco nel magari continuare a fare le cose che ci avevano dato buoni risultati e chiaramente la fisicità si alza nei minuti finali, diventa difficile anche magari giocare in modo più fluido e brava Casale poi a concretizzare un nostro blackout offensivo del quarto quarto.